Da ottobre on-air la nuova campagna pubblicitaria di Estra Prometeo, che richiama i valori del brand da sempre impegnato sul territorio marchigiano. E' partita la seconda edizione del premio giornalistico nazionale Estra per lo sport, raccontare le buone notizie. Il premio è suddiviso in tre sezioni, stampa, radio e tv, web e blog. Coinvolge anche le Marche e la Toscana. Estra ha contribuito allo sviluppo delle economie locali con oltre 190 milioni di euro, è quanto si ricava dal bilancio di Sostenibilità 2016 alla voce Valore Aggiunto Territoriale. Sono 616 lavoratori di Estra nel 2016, 229 donne e 387 uomini, tutti o quasi 93,3% a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni sono state invece 36, stesso numero di donne e uomini.